Gli insetti abitano praticamente quasi tutte le terre emerse, dalla giungla tropicale alla savana africana, dalle alture alpine alle grotte carsiche. Beh, che se ne dica, gli insetti non abitano solo il suolo con brevi parentesi alate, ma ci sono molti insetti con sia fasi giovanili adulte acquatiche e molti altri che hanno fasi larvali acquatiche che usciranno dall'acqua solo diventando adulte.